Sceglie l'Abruzzo, sceglie Pescara l'associazione italiana Beach Volley Club per far partire l'ottava edizione dell'Italia Tour, uno spettacolo che tra spiaggia, mare azzurro, sole e tante schiacciate si annuncia con il botto per le centinaia di beecher pronti a scatenarsi sulla sabbia. Il Beeper Italian Tour parte a Pescara questo weekend, siamo molto contenti di ospitare questa tappa del circuito Beeper, per noi è il terzo anno che lo ospitiamo alla Prora, abbiamo più di 70 coppie iscritte dalle qualifiche, e accoglieremo nomi del beach volley italiano e non solo. I numeri del Beeper Beach Tour sono impressionanti, 1500 partite da giocare, 100 atleti in campo tra maschile e femminile, previsti oltre 100.000 spettatori, più di un milione in streaming e social. Il tutto in 11 tappe tra Marina di Grosseto, Piazza Michelangelo a Firenze, Maccarese, Cessenatico, Pesaro, Frigole, Beach Village di Bergamo, Modena, ma ancora Roseto degli Abruzzi in Abruzzo dal 18 al 20 agosto. Il 26 maggio la prima tappa alla Prora di Pescara. È tutto pronto, non vediamo l'ora, apriremo il sipario a un grande evento italiano come l'IBVC Italia Tour, quindi come scuola, come Sierra Deco Beach Volley School siamo onorati di aprire le porte ai nostri campi per questi magnifici atleti di tutta Italia. Ricordiamo date e orari. La manifestazione partirà venerdì con le qualifiche, per poi partire con il Mindrove da sabato fino a domenica in cui si svolgeranno le finali dell'evento.